come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità proprio come quelle di oggi e tra l'altro iniziamo subito questo video con una piccolissima informazione che riguarda l'adi poi cambiamo argomento e parliamo di altro perché a questo punto di a di ne abbiamo penso già parlato fin troppo ormai la maggior parte dei pagamenti sono arriva sono arrivati stanno arrivando le lavorazioni sono iniziate anche alla faccia di tutti quelli che dicevano no l'inps non ce la farà non ce la farà in realtà poi ce l'ha fatta e le cose stanno andando avanti però 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 cosa cosa vi ho detto parliamo brevemente di questo a di perché sappiamo che l'accredito dell'assegno di inclusione tra l'altro avrà un piccolissimo piccolissimo slittamento per tutti quelli che non si sono mossi in tempo entro il 7 di gennaio scorso però è successa una cosa strana una cosa molto particolare adesso vediamo noi sappiamo noi sappiamo introduco questo per farvi capire noi sappiamo che l'inps aveva scritto che per tutte le domande che erano state presentate dopo il 7 di gennaio e comunque entro il 31 di gennaio con pad quindi patto di attivazione digitale sottoscritto entro il 31 di gennaio ed esito positivo dell'istruttoria questa è una frase che credo che ripeterò all'infinito anche nei prossimi video il pagamento della mensilità di gennaio sarà disposto a partire dal giorno 15 di febbraio quindi ne sappiamo che c'è un rimando in avanti del dal a partire dalla seconda metà di febbraio di chi ha presentato la la domanda e ha avuto esito positivo dell'istruttoria dall 8 al 31 di gennaio ma è successa una cosa strana ascoltate bene quello che vi dico è successa una cosa un po particolare perché quando sono iniziate le lavorazioni dell'assegno di inclusione l'inps ha vabbè lavorato e accolto alcune o comunque la maggior parte la maggior parte delle domande che erano state inviate prima del 7 di gennaio e poi e poi ha lavorato e accolto e ha accolto alcune domande che sono state inviate dopo il 7 di gennaio c'è stato addirittura qualcuno che ha presentato la domanda dopo il 9 di gennaio e gli è stata lavorata quindi nonostante che l'inps avesse detto che le domande presentate prima del 7 di gennaio finivano a 20 al 26 di gennaio è successa questa cosa particolare che a qualcuno che ha presentato domanda dopo dopo lo cioè a partire dall 8 non si sa perché nonostante avessero detto che appunto tutte quelle lì saltavano a febbraio non si sa perché è stata lavorata quindi diciamo che o la questione è o gli è sfuggito qualcosa nel senso che il sistema non ha ben calcolato le date quindi potrebbe essere che gli sia sfuggito qualcosa oppure hanno voluto far rientrare volontariamente anche tutti quelli che hanno presentato domanda l'otto e il 9 questo non lo sapremo mai come cioè non sapremo mai come mai è successa questa cosa qua si sa che qualcosa è successo quindi negli accrediti del 26 di gennaio sono rientrati anche coloro che hanno inviato la domanda di assegno di inclusione dopo il 7 di gennaio attenzione come dico sempre però la domanda doveva essere accolta se no non è che arrivano così quindi e quindi io sono curioso questo punto siccome che me l'hanno me l'hanno detto appunto io vi riporto quello che mi hanno detto ecco fatemi sapere qui sotto nei commenti se per caso voi che avete fatto domanda a partire dal lotto compreso ecco cioè dal lotto compreso è stata lavorata e accolta la domanda fatemelo sapere qui sotto e vediamo a quante persone è successo questo questo evento eccezionale cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione ve l'avevo l'avevate scelto in realtà voi in una precedente diretta live se non ricordo male era la diretta live dell'11 di gennaio sapete che il giovedì sera ci sono le dirette live qui sul mio canale di youtube anzi apro parentesi per chi non lo sapesse per i nuovi iscritti tutti i giovedì sera alle 21 e 30 sul mio canale di youtube ci sono le dirette live da adesso fino alla prossima estate in pratica diciamo che durante tutto il periodo invernale ci teniamo compagnia con le dirette live è un modo come un altro per rispondere alle domande vederci faccia faccia stare in compagnia e discutere delle nostre cose ebbene che cosa è successo è successo che nella in quella diretta live nel durante il voto alla diretta avevate chiesto di parlare del wallet e allora vabbè adesso in queste ultime due settimane c'è stato appunto questo discorso dell'assegno di inclusione quindi io del wallet non ne avevo più parlato ho detto lo metto in programma e finalmente ve ne parlo quindi che cos'è il wallet che dicono che dovrebbe rivoluzionare l'italia e anche questo il sistema di conservazione dei documenti fate bene attenzione che questo argomento qua riguarda tutti nessuno escluso quindi non fate dite che io salto l'argomento non mi interessa perché una cosa che comunque riguarderà tutti quanti non è che io su questo argomento l'ho messo l'ho introdotto perché non sapevo di cosa parlare fate molta attenzione che questa cosa qua cambierà il nostro sistema di autenticazione con lo speed anche quindi tornando a noi con la fine dell'anno scorso è arrivato un annuncio da parte dei nostri media dei nostri politici insomma dalle sfere alte che riguarda quello che si chiama it quindi imola torino wallet e arriverà anche in italia questa cosa qua e dicono dicono poi ognuno se la vediamo su voi comunque dicono che questo strumento grazie a questo strumento sarà possibile digitalizzare e portare con sé i documenti in un sistema molto più semplice e dicono anche sicuro questo sistema di it wallet è uno strumento quindi adesso poi vi spiego anche bene che adesso vi dico le cose un po tecniche poi vi spiego com'è questo strumento darà la possibilità a tutti i cittadini di praticamente digitalizzare dopo vi spiego digitalizzare cosa vuol dire i documenti più importanti come per esempio la patente di guida la tessera sanitaria e dicono addirittura che lì dentro ci finisce lo speed questo sistema di digitalizzazione che non è niente altro che la scansione cioè l'inserimento dei codici all'interno dello smartphone dentro un'applicazione che sarà più facile da utilizzare quindi in pratica una volta che si scansiona quindi adesso ci diranno se basta fare una fotografia se basterà inserire solo per esempio prendiamo la patente no la patente ha dei codici giusto non è che la patente voglio dire cioè sì è un pezzo di plastica alla fine ma lì dentro ci sono dei codici quindi adesso staremo a capire se basterà inserire solo i codici della patente il numero sapete che la patente ha un numero oppure bisognerà fare la fotografia un po io me l'immagino un po come quelle applicazioni che si utilizzano per portarsi in giro le tessere tipo dei supermercati cioè io è strano tipo sei anni che non mi porto più in giro le tessere dei supermercati perché perché ho scaricato un'applicazione sul telefonino e cosa ho fatto le tessere dei supermercati hanno di solito un codice a barre io entro dentro quell'applicazione faccio la fotografia del codice a barre e quello mi dice sì questa è la tessera di quel supermercato questa è la tessera di quell'altro supermercato e quando vado a fare la spesa apre l'applicazione c'è tutti i disegnini delle varie tessere cliccoli e appare il codice a barre che io glielo consegno in cassa quindi io me l'immagino una cosa simile a voi scansionate il codice della patente il codice del codice fiscale il codice del passaporto il codice che cavolo ne so io di quello che sia un documento di riconoscimento lo scansionate dentro l'applicazione e quando andate in giro vi chiedono mi dà il codice fiscale te beccati il codice fiscale ce l'ho sull'applicazione quindi in pratica questo it wallet viene un po considerato come una specie di portafoglio digitale al momento al momento pochissime persone hanno avuto la possibilità di testare il funzionamento di questo it wallet quindi perché è in fase di sperimentazione però dicono che secondo le informazioni secondo le informazioni che stanno girando in questi giorni questo it wallet dovrebbe essere incluso all'interno dell'applicazione quello che si chiama app io e vi ricordate durante il covi di questa applicazione app io che ce l'avevano spinta in tutti i modi ci obbligavano a utilizzare questa applicazione benedetta che nessuno voleva ne abbiamo già 50.000 usate anche quella app io e comunque che tra l'altro si accede anche con lo speed o con la carta di identità elettronica perché sapete che anche sto speed probabilmente andrà a farsi benedire no ce l'ho già detto tante volte rimarrà solo più la carta di identità elettronica quindi di dentro ci finisce anche lo speed e poi e poi dicono che questo it wallet vedrete che c'è dalla fine ce lo ritroveremo anzi ma è come si dice ansi ma lì ansi ma lì e ce lo ritroveremo entro i primi sei mesi di quest'anno quindi probabilmente è facile che da giugno in avanti inizierete a sentire di parlare di questo it wallet come l'invenzione del futuro l'innovazione che ci salverà tutti quanti vedrete che finirà così io dal canto mio la trovo una cosa in più hanno detto che non sarà obbligatoria nel senso che chi lo vuole così adesso e poi vedremo dopo come sarà però adesso hanno detto che non sarà obbligatorio il suo utilizzo io personalmente la trovo una cosa in più siamo già carichi di applicazione non mi sembra il caso di personalmente di andare a scaricare un'altra applicazione che mi occupa spazio nel telefono memoria e poi non riesco a fare le mie cose perché ci devo impiassare pure dentro quella quindi vedremo poi in futuro se effettivamente sarà obbligatoria oppure no se sarà obbligatoria ci muoveremo di conseguenza per adesso a parte che per adesso ancora non esiste questa applicazione l'unica cosa che esiste è l'app io che già che tanto già conosciamo non so se la usate oppure no quindi per adesso c'è solo quella vedremo poi in futuro che cosa succederà come ultimo argomento quindi cambiamo argomento come ultimo volevo rispondere a un paio di domandine che ho ricevuto in questi giorni nei video in merito all'assegno di inclusione e ho preso una domanda a caso una delle tante e la domanda dice così per le domande presentate dal mese di febbraio e nei mesi successivi quando viene disposto il pagamento dell'assegno di inclusione allora il ministero a questo punto risponde sapete il ministero a questo punto risponde e ci dice così per le domande presentate dal mese di febbraio il primo pagamento attenzione il primo pagamento verrà disposto dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale come vi ho detto prima all'inizio è quindi domanda all'inps sottoscrizione del pad accoglimento tutto quanto deve andare tutto dritto e filato poi i successivi pagamenti quindi quelli dopo verranno disposti il giorno 27 del mese di competenza quindi se vi ricordate un po funzionava come funzionerà e funzionava come vecchio rdc il 15 e il 27 non hanno inventato l'acqua calda hanno ripreso le stesse identiche cose che già conoscevamo almeno da quel lato più o meno sapremo come muoverci poi sempre il ministero dice che bisogna ricordare che per accedere al beneficio bisogna presentare la domanda di ad all'inps effettuare la l'iscrizione al sis sis che vuol dire sistema informativo di inclusione sociale lavorativo e sottoscrivere il patto di attivazione digitale nel nucleo familiare se c'è un nucleo familiare se non si presenta per se stessi un'altra domanda molto interessante e che ovviamente mi state facendo in questi giorni anche se ne abbiamo già parlato tantissime volte però a questo punto mi sembra che può darsi che sia sfuggita non lo so e questa qua c'è una scadenza per presentare la domanda di assegno di inclusione anche qui il ministero risponde e ci dice così no non ci sono scadenze previste quindi qualsiasi periodo dell'anno qualsiasi giorno della settimana qualsiasi giorno del mese va benissimo e il beneficio sarà riconosciuto in questo senso direttamente dell'inps dopo che avrà fatto tutti i suoi le sue verifiche di tutti i suoi requisiti entro ecco entro dopo aver fatto i requisiti entro la fine del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale come vi ho detto prima poi va bene c'era un'altra domanda a cui volevo rispondere però a questo punto siamo arrivati a 15 minuti di video mi sembra che sono già un po tanti a questo punto credo che questa domanda la rimando poi al prossimo video io comunque vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube a presto ciao 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 ciao